Quando si ragiona in ottica di focus, principalmente ci sono tre tipologie di posizionamento, almeno io le ho racchiuso in queste tre tipologie di posizionamento per dare un esempio un po' più chiaro di come può essere sviluppato un posizionamento. Il primo posizionamento è un posizionamento oggettivo, quindi un qualcosa che il cliente lo percepisce anche a livello oggettivo, tangibile, un posizionamento socio-culturale e poi il posizionamento Iron Brand. Quando parliamo di posizionamento oggettivo è logico che analizziamo i principali tre servizi che caratterizzano un salone, quindi stiamo parlando del servizio colore, del servizio taglio, e del servizio trattamento. Quindi partiamo da quel concetto. Ricordatevi sempre una cosa, e questo vi evita il discorso di entrata in phishing concorrenza, gli strumenti che io ho, scusatemi, i servizi e i prodotti che io ho in salone sono e devono rimanere sempre degli strumenti a mio carico. Non diventano mai il focus principale, la battaglia che ormai da anni facciamo insieme. Io non posso basare il mio posizionamento sulla marca del prodotto che utilizzo in salone, perché sto cedendo il controllo del mio business, sto cedendo il controllo del mio salone. Se questo domani gli sto sul cazzo e non mi dà più la roba, mi attacco. E io ho convinto i clienti, ho convertito i clienti ad acquistare un prodotto su cui io non ho un controllo specifico. Quindi tutti quelli che sono i servizi e i prodotti interni di salone, non li devo svalutare, assolutamente no. Ma a livello di comunicazione devono essere degli strumenti che vadano ad avvalorare quello che è il mio sistema, il mio metodo interno, che non può essere replicato da altre parti perché diventa di mia proprietà. E quindi vi faccio, questo è l'esempio, no? Se io a livello di fornitore ho dei colori nutritivi, prendiamo sempre questo come esempio, non dirò al cliente, vieni in salone da me perché ho il colore nutritivo dell'azienda da pinco pallo, ma in realtà gli andrò a dire il mio sistema di colorazione colore e nutre allo stesso tempo. È il mio sistema di colorazione, anche perché comunque ognuno di voi all'interno del proprio salone può creare il proprio sistema perché magari ha una metodologia di applicazione del prodotto in maniera differente, lo applica aggiungendoci un altro prodotto che va magari a rendere più efficace il trattamento finale. Quindi io vado a costruire il mio sistema di colorazione interno. Facendo così il cliente cosa percepisce? Non è che percepisce a quello che ha il prodotto buono, ma va a percepire che capelli colorati e sani senza rischio di bruciare o rovinare il capello. È questo che a me mi interessa, che mi colleghi alla soluzione di un problema che può risolvere non col prodotto che utilizzo, ma col sistema che ho generato utilizzando dei prodotti sicuramente di qualità. Perché questo? Perché quando io ho il mio sistema di colorazione e utilizzo il prodotto Pinco Pallo, che è un prodotto assolutamente buonissimo, nessuno mette in dubbio, è qualitativamente il migliore, se domani questo prodotto arriva il fornitore e mi dice, ascolta ho scelto, non te lo do più a te, lo do al salone a fianco perché mi fa il doppio di contratto, io non ho il mio business a rischio perché ho la libertà di andare a cercare sul mercato un prodotto che continui ad aiutarmi a rendere il mio sistema di colorazione efficace e di qualità.